Conocci il sito dovessiamonelmondo.it? Ti sei iscritto nel dovessiamonelmondo.it? L'ho già fatto precedentemente in una vacanza che avevo fatto due anni fa. E mi iscriverò. Lo rinnoverò quest'anno prima della partenza. Bravo. Che buona come iniziativa. Così siamo a posto, perfetti, senza problemi. Sì, ci proverò a iscrivermi. Grande, così si fa. Grazie, grazie. Allenati prima di partire e viaggia con la testa sulle spalle. Parola di Alberto Tonto. Grazie a tutti.